Gamma 60 gradi Giraldo, il baccalà nella sua versione più pratica, vantaggiosa e rivoluzionaria. I migliori tagli sottovuoto pronti da cuocere alla temperatura ideale come dei veri esperti. La cottura a bassa temperatura esalta al meglio il sapore del prodotto, mantenendo intatti nutrienti e consistenza. Per questo abbiamo voluto semplificare la cottura di un pesce così delicato e squisito come il baccalà, imbustando le incomode monoporzioni pronte per essere cucinate a 60 gradi centigradi e raggiungere il punto di servizio perfetto. Lavoriamo solo il miglior baccalà al mondo, l'autentico Gadus Morua, pescato ad amo nella maniera tradizionale e solo nelle acque più limpide del pianeta, tra le isole Feroe e l'Islanda. La sostenibilità e la tracciabilità sono garantite con il nostro baccalà, il quale è soggetto a un processo di salatura naturale per mano di esperti immediatamente dopo essere stato pescato. Da Giraldo lo dissaliamo attraverso un processo esclusivo e successivamente lo imbustiamo sottovuoto in olio neutro. Cococas, l'homo. È disponibile un'ampia gamma di tagli in grado di assicurare diverse possibilità di ricette. Per prepararlo si può usare il forno a vapore o il runner, tra gli 8 e i 10 minuti, alla temperatura di 60 gradi centigradi con uno dei due apparecchi. Un'altra opzione per cucinarlo è il microonde, per un minuto e mezzo o due alla massima potenza, sempre senza aprire la busta. Potrà così ottenere un sapore incredibile e una consistenza perfetta. Pratico, gustoso, salutare e molto conveniente, con un preciso controllo dei costi. Inoltre, puoi aggiungere un tocco finale ai tuoi piatti completandoli con le salse pronte di Giraldo. Pil pil, nero di seppia. Come ti sembra? Sembra buono, giusto? Gamma 60 gradi Giraldo. Baccalà alla temperatura dei maestri. Contattaci e scopri di più.